Antonio Di Gennaro, da dove iniziamo? Dalla grande delusione o dalle prospettive future? Ma ormai la grande delusione è successo, quindi l'importante è ripartire e pensare a quelle che possono essere la futura società, i futuri dirigenti che è sicuramente la parte più importante, poi il resto viene da solo. L'importante è che si creino i presupposti affinché chi viene sa quello che è successo e quindi riparta con una visione nuova. Però una domanda è d'obbligo, quanto la sorpresa, tutta la situazione del Bari? Sorpresa sì, ero in Russia, ma si sapeva questa situazione già da marzo, il bilancio era molto pesante, quindi non c'era poi comunicazione, la comunicazione oggi è un fattore determinante perché vuole fare non solo calcio, ma diciamo aziende in generale, quindi non c'è stata questa, non c'è stato supporto anche tra le persone, credo, vicine al Presidente. Queste sono situazioni, d'altronde le colpe sono ricade su Gian Caspro, però insomma anche il CDA, mi sembra che forse sapevano di questa situazione, erano in contatto, lo stesso direttore sportivo ha fatto le operazioni, andava avanti. Ora non so se poi Gian Caspro, ripeto, sono situazioni che sa solo lui o sanno quelli che gli stavano vicino. Noi possiamo soltanto leggere quelle che stanno dicendo, adesso è venuto fuori un comunicato, un articolo del Presidente in cui ce l'ha con tutti, ma sono cose che adesso servono poco. Loro avevano la possibilità di salvare una società gloriosa di 110 anni e sono fallite in una maniera secondo me non bella. Ecco, io credo che queste cose, mi auguro che per Bari siano finite, perché da dieci anni a questa parte del calcio scommesse ne abbiamo viste di tutti i colori. Credo che poi la parte più debole, ma anche più bella, che è il tifo, non si meritano, ma soprattutto quelli che amano e vogliono qualcosa di importante, magari sicuro che ci siano delle garanzie, che si possa crescere, cambiare questa mentalità, ma soprattutto riportare una squadra dove merita. Si è sempre detto la Serie A, però la Serie A si deve costruire. Ecco, ora ripartendo da zero, è brutto dirlo, perché giustamente ripartire la D non è semplice, però altre squadre l'hanno fatto, quindi prendiamo esempio che il passato è il passato e bisogna lavorare in merito di costruire, perché la cosa più importante è se costruire. Abbiamo il tempo e credo, spero, i mezzi perché si faccia una costruzione generale, non soltanto la squadra, due dirigenti, no, si parte da quelle situazioni che devono dare patrimonio alla società futura. Chiudo la questione del passato con un'ultima domanda. Secondo lei, al di là del caso in sé, come è stata gestita tutta la situazione dal punto di vista comunicativo e della gestione dell'impasse? Non c'è stata comunicazione, negli ultimi mesi non parlava l'allenatore, non parlava nessuno. Questa è una cosa che nel calcio non esiste, sembrava una società di eccellenza, dove c'è stato un mutismo generale e quindi la stampa deve fare il suo dovere e i giocatori, la società, i dirigenti devono comunicare quelle che sono le direttive. Insomma, mi sembra una cosa talmente normale oggi e, ripeto, di fondamentale importanza comunicare bene, avere anche le persone giuste, è normale. Quindi, dicevo, creare, costruire, parlavo in maniera proprio generale, un'etica manageriale, un'etica professionale di lavoro, di costruzione, per quanto riguarda la squadra, l'organigramma, le strutture, il centro sportivo, eventualmente lo stadio da rifare o da costruire nuovo. Queste sono cose che chi viene sa che è così. Purtroppo in questi anni non è mai stato fatto niente. Anche la gestione matarrese, con tutto il rispetto, hanno fatto grandi cose, altri meno bene, ma soprattutto non hanno costruito. Perché adesso erano altri tempi, mettiamola così. Adesso il calcio è fatto di azienda. Non è che vengano persone che amano, vengono qua, perché ci può essere un interesse per loro, una prospettiva futura, poter realizzare anche delle situazioni che possono garantire anche degli introiti e poi dare solidità a una società. A proposito di struttura, mi scusi se la interrompo, pare, sentendo le dichiarazioni dei protagonisti degli ultimi giorni, che il silenzio stampa di Grosso dell'ultimo periodo non fosse tanto legato ad un problema con la stampa, ma ad un suo non voler esternare certe situazioni con la società riguardo a mancate promesse legate alle strutture, ai servizi. Ma sai, Grosso fa parte della società. Se va a parlare a Sky Sport, perché non deve parlare con le altre televisioni? Mi sembra. È un problema della società. La società poteva dire, Grosso, devi andare a parlare con Sky, devi andare a parlare con tutte le televisioni, se no non parli con nessuno. Il silenzio stampa si fa solo che con Sky c'era un discorso anche di diritti e quant'altro. Quindi da parte sua lo posso giustificare, ma non giustifico la società perché è quella che decide, che gestisce, che comanda. E quindi è come se Allegri parla a Sky e poi dice no, a Juventus c'è ne non parla. Esiste. Quello che è trappelato è che lui fosse deluso, così pare, da alcune promesse legate alle strutture che non sono state rispettate, motivo per cui poi, al di là di come è andata a finire dopo, ha già deciso di andare via. Ma infatti a Bari, quando si deve parlare di progetto, ma non soltanto ora, anche gli altri anni, ma progetto non ci poteva essere. Perché un progetto si fa avendo i mezzi a disposizione. Se ti mancano i campi di allenamento, sia a livello di settore giovanese, sia a livello di prima squadra, non si può parlare di progetto. Si parla di improvvisazione, di un tirare a campare, come si dice a Bari, post-Vaid, ed poi diventa difficile per tutti gestire allenatore, gestire il gruppo di lavoro. Quindi in questo il passato è così. Prendiamo esempio dagli errori, perché si può ripartire alla grande, con sofferenza, con sacrificio, però è anche intrigante, magari partire dalla D e fare un progetto finanziario, strutturale, economico e commerciale, e con gli anni, ovviamente con una società, ci auguriamo forte, perché adesso è fondamentale, di poter fare quello che Bari merita. Io lo dico da sempre, 30 anni ormai che, a parte qualche parentesi, sono stato fuori, che conosco questo ambiente. È un potenziale da Champions League, la mentalità è da costruire, e chi la costruisce la mentalità? La società. Parliamo di futuro, dunque parliamo dell'ultimo episodio lieto, chiamiamolo così, tra virgolette, che è stato l'incontro allo stadio della vittoria, tra i tifosi e il sindaco De Caro. Dico lieto perché c'è stata una partecipazione abbastanza significativa, che cosa significa per lei? Niente di nuovo, perché conosco i tifosi a Bari, conosco l'ambiente, sì sono esigenti, a volte critichano, però credo sia rimasta la sesta tifuseria in Italia. Io faccio le partite in tutta Europa, nel mondo e in Italia, allo stadio ci vanno in pochi in Italia, invece a Bari è rimasta questa passione, e quindi proprio questa passione va incorporata a chi prenderà il Bari, perché si deve ripartire dalla passione, dai valori, dai principi, dall'etica, come dicevo prima, e quindi questa dimostrazione che hanno fatto al Della Vittoria, stadio storico, io diciamo ci ho giocato per due anni, con la partecipazione di credo di 4-5 mila, con il sindaco che piange all'inno del Bari, questo è il punto di partenza, che potrebbe essere lo stadio per la Serie D, questo non lo so, sicuramente darebbe un senso nuovo per poi poi programmare, perché adesso bisogna andare per piccoli passi, errori bisognerà farne pochi, e quelli che magari uno farà, essere sempre consapevoli di quello che uno può sicuramente migliorare. In tanti, anche in quel contesto, hanno chiesto a gran voce al sindaco che, al di là di dover cercare degli imprenditori seri, si deve partire da chi vuole bene al Bari, è stato fatto anche il suo nome, c'è l'ipotesi che Di Gennaro possa far parte del Bari del futuro? Ho sentito, perché io ero appunto, stavo ritornando dalla Russia, mi ha fatto piacere, ho visto anche filmati, ma questo vuol dire che in questi anni, sia in campo che fuori, abbiamo cercato, io mi sono sempre adoperato, perché ritengo Bari una piazza che deve ancora esplodere in maniera totale, nel senso che ha sempre avuto serie A, un po' di serie B, qualche volta le C, questa è una piazza che deve stare sistematicamente nella massima divisione, piano piano, anche puntando poi, con un progetto veramente serio, andare anche in Europa, Bari manca all'appello per andare in Europa, e quindi ha le potenzialità, l'importante è che si crei una società forte, poi è normale che farebbe piacere dare il proprio contributo, ma queste sono cose che si vedranno più avanti, l'importante è che con il sindaco Di Caro, che sta lavorando in maniera molto alacremente, per trovare le persone giuste, che si ripartino, e come dicevo prima, questo è fondamentale, certa gente che ha fatto certe situazioni, che ha contribuito a questo, sarebbe opportuno che non si facessero più vedere, serve veramente una cosa nuova, pulita, aria fresca, che si respiri questi principi, i valori, come dicevo prima, l'etica manageriale e professionale di tutti, di lavoro, cominciare a costruire proprio un'etica di lavoro forte, perché ci sarà da lavorare tanto, però questa deve essere la prospettiva intrigante di tutti, poi se in nome di Gennaro, o anche altri ex, saranno presi in considerazione, io sono dell'idea, che come anche in altre situazioni, in altre società, i nomi importanti, devono dare il loro contributo, indipendentemente ovviamente da chi gestisce, da chi comanda. I importanti però devono essere disponibili a scendere, tra virgolette, in Serie D, lei sarebbe disponibile? Ma Serie D a Bari è una serie di, per modo di dire, perché se si parte con qualcosa di importante, l'ha fatto il Parma, l'ha fatto il Venezia, e lì abbiamo visto in tre anni il Parma, è stato in Serie A, il Venezia è stato forse una sorpresa, ma ha programmato, hanno strutture, hanno una società che investe, che lavora anche su altre situazioni, quindi l'importante è, si parte da zero, e quindi c'è solo da migliorare, quindi partire dalla Serie D, magari se si prende un range di giocatori, si chiede se vogliono venire a giocare in D a Bari, oppure in C da un'altra parte, io credo che su 100, 100 scelgano di venire in D a Bari, ho letto anche di Torrente, si è proposto, qui in Torrente è uno che qui è stato, ha fatto anche bene in Serie B, se si propone di venire un allenatore, credo anche lo stesso Zironelli, che era allenatore del Bari, prima del fallimento, è uno che aveva lavorato in Serie D, in Serie C, se fosse rimasto lui, l'avessero proposto in D, credo che anche Zironelli avrebbe accettato, perché Bari è una piazza dove non si può dirgli no. Per concludere, qual è la sua percezione personale? Metta un attimo la maglia del tifoso. Ma il tifoso ne ha passate tante, lo dicevo prima, insomma da dieci anni è successo un po' di tutto, quindi c'è apprezzione, c'è un po' di forse scetticismo, però se parli con chiarezza, cosa in questi anni c'è stata poca, già dal fallimento pilotato fino agli ultimi giorni, fino all'udio scorso, quando poi il 16 luglio è successo quello che è successo, bisogna parlargli chiaro, perché non avrei problemi a vedere dieci mila abbonati in Serie D, o forse di più. L'importante è che ci sia veramente un progetto serio, piano finanziario, affinché si possa riportare, non so, due, tre, quattro, cinque anni, no, l'importante è avere la società, avere le idee chiare, e il tifoso ti dà, perché poi può criticare, ma fa parte del gioco, chi va, è come quando uno va a vedere un'opera, o un spettacolo, paga, può criticare, però se ci sono le basi e chiarezza, io credo che sono convinto, conoscendo questo ambiente, che ci sia veramente, ecco, una rinascita nuova per il Bari, ma soprattutto per i tifosi, perché, come dicevo prima, sono stati secondo me anche un po' un anello debole, tanto la gente se ne approfittà, tanto verranno sempre allo Stai, dove vanno? E abbiamo visto poi cosa sia successo, insomma, ricordiamoci, quasi mille tifosi a Cittadella, dopo che erano stati, era stata negata la partita qui in casa, per i due punti di pianizzazione, dove è stato lì il camponello d'allarme, lì qualcuno doveva agire, quindi i discorsi che si fanno dopo, lasciano il tempo che trovano, il Bari poteva essere salvato. Ha un consiglio finale, magari per i potenziali investitori? No, come dicevo prima, ma chi verrà sa, che qui troverà un ambiente aperto, voglioso, e quindi ci sarà grandissimo entusiasmo, l'importante è che ci sia la chiarezza necessaria, ma su questo non so chi verrà, mi auguro veramente qualcosa di no avventurieri o faccendieri, come ho visto negli ultimi anni, che hanno portato, e non soltanto a Bari, lo vediamo, per questo ci dovrebbero essere anche delle regolamentazioni da parte degli organi che ci tutelano, parlo della FIGC, della Lega, del Covizoc, del CONI, mettiamo quello che ci pare. chi prende le società, bisogna fare sicuramente, avere delle regole, e chi prende deve gestirle bene, non come è successo nell'ultimo periodo, perché quello che, ripeto, è successo nell'ultimo tempo a Bari, io mi auguro che non si debba vedere, né a Bari, ma neanche nel nostro calcio, altrimenti, insomma, non si potrà mai migliorare, vedere un qualcosa di diverso. Io sono convinto che chi arriverà, saprà prendere atto degli errori di chi c'è stato, e sicuramente porterà il Bari dove merita.